Era l'ora delle streghe, quando arriva l'orco. Le ragazze dicono che l'ora delle streghe è a mezzanotte. Secondo me invece è alle 3 di notte, quando io sono l'unica ancora sveglia, come adesso. Sveglia Ma dove sono? In paese di gigatti. Oh mamma... Ma perché hai preso me? Perché ho sentito tuo cuore solitario. Io sento tutti i segreti bisbigli del mondo. Nonetto! Sofì, nasconditi. Non è che tu hai un cucciolino. No!